Sarà Gigi D'Alessio a guidare il concerto in piazza del plebiscito per i festeggiamenti del 31 dicembre. Uno spettacolo gratuito organizzato in collaborazione con Canale 5 che trasmetterà in diretta la serata assieme a RTL 102.5. L'evento sarà a costo zero per il comune di Napoli. Questa è una città che mi ha dato tanto. Adesso è il momento di dare io qualcosa alla mia città perché io posso solo ricambiare con le canzoni. Ho cercato di coinvolgere Mediaset unitamente a RTL per far sì che questo capodanno lo possano vedere non solo in Italia ma in tutto il mondo. Verranno con me sul palco quelli che vogliono bene a me, che amano la mia città e che soprattutto amano i napoletani. Poi se sono tifosi del Napoli ancora meglio. Gigi D'Alessio & Friends vedrà sul palco il cantante napoletano assieme ad altri cantanti e musicisti, dei quali per adesso non sono rivelati i nomi. Il concerto sarà il momento di punta della festa cittadina che sarà animata da eventi, cinque discoteche all'aperto e fuochi d'artificio sul lungomare. L'intera città sarà coinvolta e noi siamo soddisfatti anche dell'interesse nazionale perché andiamo in diretta sul canale 5 RTL e quindi si va in tutto il mondo. Abbiamo voluto comunicarlo adesso perché Napoli ormai punta ai grandi numeri per rilanciare anche il turismo e rilanciare economicamente la nostra città. Un appuntamento musicale è previsto anche per il primo gennaio. Speriamo solo di avere una giornata bella.